Sì Presidente, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per la parola, intanto saluto l'assessore Ziantoni, la ringrazio ovviamente per la spiegazione, per la stesura del regolamento che stiamo oggi discutendo, un regolamento che non deve essere preso sotto gamba, la leggera, perché è un regolamento che dà una visione circolare non più lineare sul tema della gestione dei rifiuti urbani e non solo, un tema ovviamente molto sensibile e caro a questa amministrazione ma un tema che dal punto di vista normativo, almeno per quanto riguarda il regolamento comunale così come è stato appunto descritto, è stato fatto un grandissimo balzo in avanti, perché come è stato specificato il regolamento, il vecchio regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani era del 2005, perciò parliamo di 16 anni fa e di fatto era un regolamento altamente datato che chiedeva di essere aggiornato prendendo spunto ovviamente dalle nuove norme del testo unico ambientale e ovviamente anche dalla 152 che è la norma cardine sul tema in materia ovviamente dei rifiuti. Questo regolamento così come ha specificato l'assessore Ziantoni è un regolamento che ha visto un lavoro di grande impegno da parte innanzitutto dell'assessore ovviamente in primis ma anche del Dipartimento Ambiente perciò dell'ufficio risanamenti ambientali anche ovviamente dall'ISPRA che comunque ha dato un contributo non indifferente sulla stesura del regolamento. Di fatto è un impianto, un regolamento che recepisce le nuove norme le nuove norme ovviamente comunitarie, perciò le nuove norme comunitarie europee insomma sulla gestione dei rifiuti che recepisce ovviamente quelle norme sulle plastiche e sulle microplastiche ricordiamo il nostro ex ministro all'ambiente Costa su questo fece un grande lavoro per portare ovviamente la visione del plastic free nel nostro paese e ovviamente oggi il Comune di Roma, Roma Capitale va a recepire quelle norme che di fatto permettono di mantenere ovviamente un sistema circolare come ho detto non più lineare perciò abbracciando la green economy, abbracciando ovviamente la visione sostenibile della gestione dei rifiuti e ovviamente apportando un contributo in materia di sostenibilità e anche ovviamente in materia della tutela dell'ambiente. Come abbiamo detto noi come Commissione Ambiente Presidente abbiamo fatto numerose commissioni negli anni perciò è un tema che abbiamo iniziato che abbiamo intrapreso all'inizio di questa consigliatura perciò all'incirca 5 anni fa avendo visto la retratezza o comunque diciamo la vecchiaia di questo regolamento abbiamo pensato immediatamente di lavorarci e di aggiornarlo. Oltre ad abbracciare le nuove norme comunitarie in materia di rifiuti vi sono delle norme che aumentano, che snerniscono e che comunque supportano l'attività dei centri di raccolta. Ricordiamo che noi poco tempo fa abbiamo approvato anche una delibera sui centri di raccolta, delibera che abbiamo sviscerato più volte in Commissione ma che di fatto poi abbiamo approvato in aula ed è una delibera che dà un impulso non indifferente alla realizzazione e la costruzione di nuovi centri di raccolta. Oltre questo all'interno del regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani vi è una parte importante anche sull'attività sulla gestione dei rifiuti all'interno dei mercati rionali, vi è una parte importante anche sullo spreco alimentare, perciò va a implementare la legge GAD, la legge sullo spreco alimentare, tema che abbiamo affrontato anche nella delibera approvata poche settimane fa sulla food policy, delibera che ricorda è stata approvata da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Vi è una prevenzione importante anche sulla produzione di rifiuti e sulla riduzione dei rifiuti, vi sono delle parti importanti anche legate soprattutto nel periodo emergenziale pandemico, cioè sull'abbandono delle mascherine sui dispositivi di sicurezza, in qualche modo che oggi dobbiamo tenere per combattere questo momento pandemico, però abbiamo notato che vi è un'abitudine poco corretta che è quella di gettare a terra le mascherine, ricordiamo che AMA ha svolto anche una campagna di sensibilizzazione su questo tema facendo una campagna pubblicitaria sugli autobus, sulle metro e ovviamente questo tema è stato inserito nel regolamento, ricordiamo che le mascherine una volta gettate per degradarsi ci vogliono molti anni e oltre a regare danno all'ambiente regano danno anche alla fauna, alla vifauna, ai volatili che comunque ingeriscono queste mascherine purtroppo muoiono soffocati, oltre ovviamente a scatenare un danno ambientale non indifferente anche per la fauna marina o comunque per le acque. Ricordiamo anche che questo regolamento ha in sé una parte normativa sulle ecofeste, perciò va a regolamentare tutte quelle attività di concerti, di feste all'aperto e dà una regolamentazione molto chiara, ovviamente avvicinandosi alla visione rifiuti zero, perciò quelle feste ovviamente che oggi vediamo che vengono svolte nei parchi, troviamo buste nere con dentro materiale non compostabile, questo regolamento dà una normativa chiara innanzitutto come ha detto l'assessore, perciò non più sacchi neri ma l'obbligatorietà di utilizzare sacchi trasparenti ma ovviamente con oggetti monouso, con utenzi di monouso biodegradabili, perciò compostabili e questo per evitare che durante le feste, grandi o piccole che siano, all'aperto ovviamente generino un impatto ambientale non indifferente sia all'interno dei parchi che all'interno della nostra città. Nel regolamento si citano delle norme che in qualche modo sostengono la visione, la filosofia contro i cambiamenti climatici, perciò danno un passo in più in avanti sul piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima, perciò sul PAESC e anche lì ovviamente questo regolamento dà un supporto normativo non indifferente, ricordiamo il tema che stiamo comunque affrontando, sul quale stiamo lavorando e dà un supporto anche alla polizia locale, alla nostra polizia locale soprattutto al nucleo ambiente di Coro, ricordiamo svolgere un'attività di tutela dell'ambiente, oggi è notizia di un'individuazione di una discarica, seppur ovviamente non è un termine poco appropriato e consono nel tema di rifiuti ma comunque un luogo fortemente inquinato ed è un nucleo che ogni giorno lotta contro i famosi sozzoni, ricordiamo anche qui con il consigliere di Palma con il quale lavoriamo a stretto giro con questo nucleo ovviamente anche il tema della videosorveglianza e quant'altro perciò per dire che questo regolamento dà un supporto chiaro e importante anche alla polizia locale, oltre questo il regolamento recepisce degli indirizzi ovviamente dati anche in commissione ambiente, oltre ovviamente gli indirizzi dati nella delibera 47 sulla gestione dei materiali post consumo e l'indirizzo che abbiamo dato e che comunque è stato accolto e reputiamo importantissimo è quello dell'istituzione dell'ispettore ambientale, cioè di quella figura della cittadinanza attiva che svolge un'attività di controllo e di presidio sulla tutela dell'ambiente, perciò una sinergia tra istituzioni e associazionismo che vede coinvolte le persone ovviamente a controllare il territorio. Questo regolamento va a normare l'attività del cittadino che oltre ovviamente a fungere come sentinella per la tutela dell'ambiente svolge un'attività di controllo insieme alle forze dell'ordine, insieme all'amministrazione e questo è importante perché finalmente il cittadino volenteroso, il cittadino ambizioso che ha a cuore la propria città avrà questo regolamento, questo dispositivo come supporto per la propria attività di controllo. Ricordiamo anche colleghi il piano economico finanziario di 700 milioni che è stato approvato da questa amministrazione che dà in là un impulso fortissimo all'azienda della gestione dei rifiuti Ama che vedrà ovviamente un acquisto imponente di mezzi, all'incirca 800 mezzi, ricordiamo anche il piano assunzionale di Ama dei 400 assunti e in molti già hanno svolto le prime prove e a breve avremo nuova forza all'interno dell'azienda Ama e ricordiamo anche tutte le attività di decoro che verranno così in qualche modo rafforzate con questo dispositivo. Inoltre per concludere Presidente ci saranno nuove campagne sul plastic free, ricordiamo anche il progetto raccoglio di Ama portato avanti insieme all'assessore Ziantoni, insieme ai municipi che vede finalmente la raccolta tramite fusti dell'olio esausto e ricordiamo che è un tema ambientale molto sensibile e molto delicato perché una goccia di olio esausto provoca un inquinamento alle acque non indifferente e su questo Ama ha fatto un passo in avanti perché ha realizzato un progetto importante dando la possibilità ai cittadini di conferire l'olio esausto in questi bidoni che poi vengono raccolti e portati via da una ditta specializzata. Io non mi dilungo Presidente, credo di aver detto quasi tutto, io ringrazio nuovamente l'assessore Ziantoni per tutto il lavoro che ha fatto, ringrazio la Commissione Ambiente, ringrazio tutti i colleghi che si occupano di rifiuti come il collega Di Palma qui accanto a me, abbiamo degli emendamenti che vanno a modificare alcuni articoli ma ovviamente cerchiamo di migliorare quelle che possono essere state forse delle dimenticanze però nel complesso il regolamento è veramente un ottimo regolamento che può essere un po' il capofila, un po' il faro per gli altri comuni italiani, perciò un grazie anche al Dipartimento Ambiente, all'Ufficio Risenamenti Ambientali ma anche all'ISPRA che ha dato un contributo normativo non indifferente, un contributo tecnico importante. Continueremo con la Commissione Ambiente di seguire questo regolamento, soprattutto un regolamento che deve essere applicato, perciò non è semplicemente un libro nel cassetto ma è un regolamento che deve essere lo strumento di tutti per il bene e per l'amore della città e per l'ambiente. Grazie Presidente.